Franco Lanza, creatore del biscotto di Morpetta, perché hai sposato questo progetto? Senz'altro ho sposato questo progetto grazie anche all'idea di Roberto Pansini per la promozione della nostra città con un prodotto dolce che in qualche modo è quello che professionalmente io faccio ogni giorno, produco pasticceria, produco dolci e preparare un biscotto che abbia tutte le caratteristiche e ingredienti tipici del nostro territorio e poterlo esportare anche oltreoceano per far gioire i nostri compaesani è qualcosa di veramente bello. Il biscotto rappresenta uno dei monumenti simbolo di Molfetta, quindi biscotto, Molfetta, promozione territorio e bontà. Sì, bontà, territorio, senz'altro sì, giusto per dare un accenno abbiamo voluto utilizzare per realizzare questo semplice, tra virgolette, biscotto, ingredienti diciamo a chilometro zero, prima di tutto una farina di grano pugliese, poi il nostro olio che sta verde d'oliva, le nostre mandorle con aggiunta di quello che serve per realizzare tutti i biscotti, uova, zucchero. Senz'altro non è un prodotto speciale perché è stato realizzato con ingredienti del territorio speciale. E allora ci auguriamo per questo biscotto, bacchi, gli oceani e pasti da un continente all'altro. Spero di sì, spero di sì. Grazie a voi.